Ciao a tutti ragazzi e bentrovati per un nuovo appuntamento con gli unboxing di GamesCollectionTV Io sono MattDoddiGamesCollection.it e quest'oggi sono qui per presentarvi The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D per Nintendo 3DS Questo è a tutti gli effetti il remake di Ocarina of Time uscito per Nintendo 64 nel 1998 Dunque quella che vi presento oggi non è la versione normale che troverete nei negozi bensì la versione uscita per la pre vendita di The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Quindi come potete vedere questa seconda cover non inclusa nell'edizione normale perché questa è l'edizione normale che troverete a tutti gli effetti nei negozi Questa invece è la cover che viene regalata in più a chi ha preordinato il gioco Non in tutti i negozi ovviamente ma non solo in alcune catene Come vedete c'è un bollino che lo identifica in uscita il 17 luglio 2011 ovvero oggi Questa è la confezione di pre vendita e c'è scritto qui Questo oggetto da collezione è tuo sempre noti The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D La confezione come vedete c'è anche una scritta che dice che il gioco non contiene alcun software ma praticamente è solo una seconda cover da collezione Come vedete è dorata la confezione nel classico stile The Legend of Zelda La scritta sul lato è a tutti gli effetti identica come quella che vedremo dopo sulla versione normale Sul retro le descrizioni sono identiche alla versione normale come potete vedere Mettiamo confronto Cambia solo le immagini che ci sono sul retro Mentre la descrizione come dicevo è identica La scritta come potete vedere è identica alla versione della Presel E vediamo cosa contiene all'interno All'interno non essendoci il software abbiamo una sorta di interno diverso comunque da quella normale perché ci sono tutte le rubie del gioco Fanno da sfondo e in più L'ho preparato per l'occasione a farvi vedere C'è incluso un poster Ecco un poster abbastanza grande Davvero molto bello Con lo sfondo della cover principale di The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Però il poster è doppia facciata Quindi dall'altro lato possiamo trovare questa splendida immagine Che la figura Link durante il pieno combattimento con Ganondorf L'immagine classica di Ocarina of Time Riproposta più volte nel corso del tempo Questo è quello che concerne praticamente questa edizione da Presel di Zelda Quindi troveremo questa seconda cover dorata Se avete preordinato il gioco in alcuni store Con questo doppio poster diciamo così Allo stesso prezzo della normale Allora Questa invece è la classica cover di The Legend of Zelda Che troveremo in tutti i negozi come dicevo senza bisogno di ordinarla Di averlo ordinato diciamo così E dentro troveremo La cartuccia di Zelda Ocarina of Time 3D Il manuale di istruzioni Che adesso andremo a vedere nel dettaglio I classici punti del Club Nintendo Il solito manuale per le informazioni sull'uso e sul corretto utilizzo del 3DS E credo che sia tutto qui Come vedete i scompartimenti qui sullo sfondo sono bianchi Mentre nella versione data col Presel c'erano le rupie raffigurate Allora Il manuale che vi ho lasciato adesso per farvi vedere È diverso dal solito manuale disponibile nei giochi per DS Perché si presenta come una sorta di foglio illustrativo Fatto a modo di mappa Come vedete ci sono solo informazioni principali Non ci sono chissà quali quali illustrazioni Ma semplicemente Diciamo i comandi principali di gioco E I vari controlli E quello che troveremo su schermo Ecco qua Quindi questo è a tutti gli effetti Lo spartano diciamo Libretto di istruzioni Lasciato per questo Zelda Ocarina of Time 3D Un tanto di classico cicillo Garanzia della Nintendo Bene Come potete vedere Non so se avete notato Allora sullo sfondo Avevo preparato anche il mio 3DS Bello preparato per l'occasione Con una cover proprio di Zelda Ocarina of Time 3D Vestita al momento Per mostrarvi alcune sezioni di gameplay Di questo nuovo Ocarina of Time 3D Quindi vi rimando a fra poco Per le Diciamo per le scene Per alcune scene di gioco che vi mostrerò Bene ragazzi Allora eccoci qua Per la prova diciamo di gameplay Di questo nuovo Zelda Ocarina of Time 3D Allora Questa è la classica intro Praticamente identica A quella di Ocarina of Time In uscita per l'interno 64 Ovviamente L'unica cosa che cambia Come potete sentire Anche il sonoro Praticamente è rimasto identico Con le classiche musiche midi Dell'originale Mentre il motore grafico Già è possibile vedere Da questa schermata introduttiva Che è comunque È stato Rifatto Completamente da capo In questo caso Caricherò un mio salvataggio Eccolo qua sotto Come potete vedere Anche il modello poligonale Di Link È stato completamente rifatto E graficamente Devo dire che è veramente Un gran bel titolo Veramente Sembra di giocare A un altro gioco La polizia grafica È eccezionale Ovviamente Io adesso Ve lo sto mostrando In 2D Perché comunque In 3D Non avreste avuto Vedere la differenza Vabbè Posso segnalare comunque Che giocando in 2D La polizia grafica Ovviamente È un pelino Diciamo maggiore Rispetto a Se giocato in 3D Comunque in 3D Il gioco rende Veramente molto bene E a mio parere È uno dei giochi più belli In 3D Per adesso Disponibili su 3DS Dunque adesso Vi farò vedere Alcuni Scorci Alcune ambientazioni Diciamo Questo ovviamente È il Cochiri Village È la foresta di Cochiri Dove inizia Il gioco Di Jokerino All Time 3D Come vi dicevo prima La colonna sonora È rimasta imutata Cioè è veramente Identica Alla contro parte Per Nintendo 64 Così come la giocavita Come potete vedere Le cose che possono cambiare Qualche studio di all'occhio Sono questa Seconda schermata Che adesso permette Il completo utilizzo Del non senza entrare in pausa Quindi capirete Che la cosa È veramente molto gradita Soprattutto Nelle condizioni di gameplay Dove si chiedeva sempre Di rientrare nel menu Per cambiare magari oggetti O comunque equipaggiamenti E quindi è tutto comodamente Selezionabile Da touch screen Quindi per esempio Selezionano la fionda E come potete vedere C'è anche il controllo Del sensore Del 3DS Quindi è molto bello Constatare Che è possibile Praticamente puntare Il mirino O cambiare anche L'inquadratura del gioco Muovendo il 3DS Ovviamente questa procedura Comporta comunque Dei pro e dei contro Il pro è veramente Molto bello E intuitivo Giocare in questa maniera Però se giocate In 3D missioni Ovviamente La qualità grafica Nel riservo Perché come sapete Il 3DS E l'immagine 3D Del 3DS Sono pienamente Utilizzabili E comunque A livello di visione Solo se stete Correttamente davanti Allo schermo Del 3DS Quindi se voi Fate questa operazione Tanto per intenderci Vi risulterà comunque Immagine sfogate Non pienamente Ben visibile Se usate il 3D Ovviamente se giocate in 3D La cosa La cosa Non persiste Comunque con un po' di pratica È possibile anche Giocarci in 3D Con questa inquadratura Anche se risulta Perlomeno Inizialmente scomoda Come vedete Comunque la veste grafica Come dicevo È completamente rifatta Veramente Molto bella Per quanto riguarda Diciamo La mappa principale Adesso vi farò vedere Comunque il gioco È rimasto praticamente Immutato Le altre aggiunte Oltre a questo nuovo Ecco Il nuovo sistema Di Di puntamento Fuibile tramite Il sensore di movimento Del 3DS Ci sono tutte Praticamente Le migliorerie Apportate al Master Quest Ovvero La revisione Di Ocarina of Time Che doveva uscire Originalmente Per La donna Del Nintendo 64 Poi arrivato Da noi Invece Nel Nintendo Gamecube Con Il capitolo Wind Waker All'interno C'era sia Una conversione Dell'Ocarina of Time Per Nintendo 64 E appunto Questo Master Quest Che Altro non sarebbe Che Diciamo Una nuova Interpretazione Dei Dungeon Di Zelda Con una difficoltà Maggiore E quindi Implementate Per l'occasione Anche in questo Nuovo capitolo Molto belli Effetti Di luce Non so se Sono disponibili Potete ammirarli Insomma Come potete vedere Se io Uso il lunino Posso comunque Cambiare la grafica Se lo so Starete più Spostamente Il 3DS Starete più Navigo Ma Solito La fatina Che accompagna Lui Di una Terce Cosmarte Di vera Rompiscatole Di fatto Stare cercando In tutti i modi come potete vedere il cambio notte-giorno è rimasto invariato anche quello originale Quarinox Hunter Nintendo 64 che vi ricordo è stato etichettato ad un'idea con uno dei soldi di avvento che è bello ma il sito su console in generale, in generale su qualsiasi sistema, ha ragione perché comunque si ha implementato in un gameplay veramente nuovo con l'epoca, perché nel 1998 un gioco di questo genere era veramente qualcosa di mai visto prima e ad oggi comunque risulta un titolo molto potibile, perché è veramente un gran bel gioco. Adesso cercherò di dimostrarvi anche uno scorso della città di Irule, il castello di Irule, se ti asciugno a capire dove mi trovo, dovrei guardare anche la mappa, scusate i giochi di luce, ma è il classico motivetto che accompagna lui che nella sua avventura diurna, diciamo, perché di notte c'è un'altra colonna senora. Dunque la mappa, allora c'era la fattoria, ecco perché sto andando nella parte opposta. Troppo in questa sezione di gioco sono all'inizio, non ho disposizione di una ipona, classico cavallo di Irule. Quindi se avuto ipona avrei avuto una maggiore velocità di spostamento, una zona altra. Ecco finalmente il castello, la mancananza, lo facciamo a vedere. Comunque sono molto belli anche gli effetti di luce e in generale sono anche molto belli gli ambientazioni, rimaneggiate per l'occasione. Il motorgrafio è stato completamente rifatto, non è un semplice porting di Ocarina of Time HD, quindi come molti inizialmente pensavano. Comunque il team alle spalle di questo nuovo Ocarina of Time non è la Nintendo stessa, ma è un team esterno che hanno... Bello anche ritrovare questi luoghi con la stessa colonna sonora di più di dieci anni fa oramai. Ecco il mercato, Irule. Bello vedere anche che tutti i personaggi secondari sono stati comunque riadattati per casi comuni molto più dettagliati che in passato. La città di Irule in questa nuova interpretazione grafica è sicuramente molto più viva e colorata rispetto al passato. Io non so voi, ma se avete la possibilità vi consiglio di confrontare con il vecchio Ocarina of Time che non è stato fatto perché la differenza è enorme, praticamente è un altro gioco. Poi comunque lo state vedendo tramite le camera, le dico che non rende, è veramente molto molto più bello vederlo dal vivo. E' un'altra cosa. Questa è una sezione di campagna in cui dovrei raggiungere la principessa Z che mi sono proprio agli inizi. Ho fatto solo il primo vero dungeon del gioco. Il classico bufo, c'è tutte le... delle trick per andare avanti nel gioco. In questa nuova interpretazione di Z comunque abbiamo anche un ulteriore aiuto per solo che nell'avventura ci sono delle pietre che se consultate ci diranno la strada da intraprendere. Bene ragazzi, penso che questo sia quanto. Quello che posso dirvi è che se non avete mai giocato Ocarina of Time questa è l'occasione per rifarvi. Se avete un 3DS ovviamente non bisogna nemmeno pensarci. Questo è il titolo che va maggiormente secondo me, che veramente merita l'acquisto della console. Se lo avete giocato a sto tempo vi consiglio ugualmente di rifiucarlo perché veramente è un'esperienza da riprovare in questa nuova veste grafica e con questi nuovi elementi di gameplay aggiuntivi. Con questo vi saluto e vi auguro buon divertimento se decidete di comprare questo Ocarina of Time 3D per 3DS. A presto ragazzi, ciao, un saluto.